Assessore Mazzocca, una bella notizia per gli abruzzesi perché sono già arrivati i primi rimborsi dell'Enel. Sì, abbiamo ricevuto molte segnalazioni da parte di diversi cittadini dei 212 comuni abruzzesi colpiti dall'emergenza metodo il marzo scorso che hanno ricevuto questa bella notizia, questo bel fatto concreto, l'eccezione di assegni circolari che rimborsavano per varie cifre, per quelle consentite dalla legge, questa mancata erogazione del servizio che superava di gran lungo le 24 ore previste dalla legge. Ci pareva giusto sottolineare il fatto che in Abruzzo è la prima volta che ciò accade, le cose buone avvengono, ovvero ancorché previste dalla legge i diritti dei cittadini vanno comunque in ogni caso supportati e adeguatamente evidenziati e noi questo abbiamo fatto, riteniamo doverosamente. Poi credo che sia da sottolineare anche l'altro impegno che assunse l'Enel nella data del 22 giugno scorso quando facevamo l'assemblea pubblica con il territorio, con i sindaci, con il Presidente delle province, molto frequentata all'Aquila, ovvero quello di avviare questo piano di investimenti che è stato rimodulato, tant'è che prevede nel prossimo inquennio 220 milioni di euro di investimenti sulla manutenzione straordinaria della rete abruzzese e quest'oggi ci hanno confermato come questo piano è stato già avviato e già in essere e contiamo che possa procedere speditamente nel prossimo futuro.